In tanti la stanno cercando incessantemente da 48 ore. Renata Serafini, 54 anni di Ferminiano, ma di lei ancora nessuna traccia. Si è allontanata dall'abitazione dove vive assieme alla sorella e alla sua famiglia nella mattinata di sabato scorso, dicendo di voler andare a trovare un parente che si trova nella zona di San Silvestro. Ma dal conoscente non è mai arrivata, ha fatto perdere le sue tracce dopo aver chiesto un passaggio in auto facendo l'autostop. È stata lasciata in questo punto sabato mattina la donna e le sue tracce poi sono scomparse in fondo a questa strada. L'ultima traccia di lei è alle 19.30 di sabato sera in un ponticello in fondo a questa strada. L'allarme è stato dato alle forze dell'ordine dai suoi familiari solo domenica mattina ed è subito scattata la macchina delle ricerche con un notevole dispiego di uomini e mezzi. In località San Silvestro dove ci troviamo in questo momento è stato istituito il punto di coordinamento interforze da dove partono le ricerche per la donna. La donna che è scomparsa già dalla giornata di sabato. Le ricerche sono partite domenica mattina e stanno andando avanti a oltranza. Stiamo monitorando tutto il territorio in cui abbiamo avuto l'ultimo riscontro di avvistamento. Stiamo monitorando adesso un fiume tramite i sommozzatori del comando di Ancona e col personale dei vigili fuoco del comando di Pesaro d'Urbino stiamo battendo le zone boschive, tutti i sentieri, tutti i casolari abbandonati o legnaie dove questa signora possa aver passato la seconda notte all'aperto. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna hanno setacciato palmo a palmo il tratto di fiume a monte e a valle del Ponticello dove alle 19 di sabato sera è stata avvistata per l'ultima volta da testimoni. Ma di lei nessuna traccia, le acque basse e il tratto fluviale privo di ostacoli naturali non ha lasciato dubbi ai sommozzatori. Renata è da cercare altrove. Siamo in una zona in aperta campagna, gli spazi sono molto ampi, le tracce sono molto poche quindi di conseguenza abbiamo dovuto impiegare tantissimo personale. È stato spiegato anche un elicottero, è stato nel pomeriggio di ieri appunto per cercare anche di tracciare un pochino, di restringere il campo della ricerca oltre dei cani molecolari, i cani sia della cruce rossa sia dei vigili del fuoco che sono stati piegati in tutto il servizio. Sui social abbiamo fatto un tam tam nella possibilità di poter avere delle tracce o comunque degli avvistamenti di Renata e anche nel circondario che comunque chiunque abbia una possibile informazione, una possibile magari vista della persona appunto di Renata e contatti immediatamente il 112 oppure 115 che stanno coordinando appunto i soccorsi insieme alla prefettura e insieme a noi per poter avere una traccia, quindi un'ulteriore possibilità. Speriamo di poter ritrovare e riabbracciare Renata il prima possibile. Dopo l'infruttuosa giornata di oggi le ricerche continuano con un cambio di strategia, si procederà a Pettine grazie all'arrivo di molti volontari di protezione civile da tutti i comuni limitrofi e l'utilizzo di cani da recupero allargando così il perimetro di territorio da controllare. La 54enne che soffre da tempo di disturbi psichici ma è seguita dal punto di vista sanitario si era già resa protagonista di un episodio di allontanamento dalla sua abitazione circa un anno fa. I ricercatori nelle prossime ore per rintracciarla puntano anche sulla scarsa mobilità della donna dovuta alla sua condizione e dal sovrappeso in un contesto di macchia boschiva controllando anche casolari abbandonati e luoghi dove avrebbe potuto trovare riparo per queste nottate. Passate alla diaggio.